citroen miami buggy è una variante dell'auto elettrica compatta di citroen ami che ha uno stile più robusto e orientato al tempo libero dopo essere stato presentato come concetto alla fine del 2021 è stata lanciata una versione di serie leggermente meno estrema la scorsa estate scopri in dettaglio esiste anche un tetto di apertura costituito da un tessuto per cappuccio che può essere srotolato e fisso tramite pulsanti automatici una barra luminosa a led posizionata sulla parte anteriore del tetto da un tocco avventuroso soprattutto mentre la guida notturna o in condizioni di nebbia quando il veicolo è fermato questa barra di luce può creare un'atmosfera accogliente diffondendo una luce morbida accompagnata dalla riproduzione di una playlist tramite l altoparlante portatile le porte sono state rimosse e sostituite con bersagli trasparenti impermeabili ricordando lo stile del famoso meari questi teloni sono dotati chiusure di fulmini per sigillare il vano passeggeri e possono essere aperti nella parte superiore evocando le classiche porte vetro dei veicoli vintage queste protezioni pratiche possono essere rimosse arrotolate e posizionate dietro i sedili in casi speciali montato un tetto sporgente sul parabrezza in continuità con il tetto per offrire protezione dagli agenti atmosferici durante l estate questo tetto offre ombra proteggendo i raggi solari del mezzogio buona presa su tutti i tipi di strade e contribuiscono a una maggiore stabilità migliorando la progettazione complessiva del veicolo citroen miami buggy concept è un invito per tutti gli amanti dell'indipendenza a vivere esperienze di viaggio in nome dell'avventura che si trova su strade o percorsi costieri questo concetto di veicolo rappresenta un oggetto ricreativo ideale per fine settimana vacanze in spiaggia o immersa in natura conquistando gli utenti grazie alla sua praticità grazie alla sua trazione elettrica il mio buggy ami si muove silenziosamente e senza emissioni offrendo il piacere della guida elettrica arricchita dalla senza porte permettendo ai passeggeri di godersi appieno l'ambiente circostante e essere avvolto nella luce grazie al roof panoramic i sedili i compartimenti stoccaggio e i bagagli del compartimento passeggeri miami buggy sono stati oggetto di accurati lavori progetta funzione pratica i progettisti hanno immaginato oggetti funzionali che potrebbero rendere le escursioni a bordo del mio buggy ami sia pratico che divertente mettendosi nei panni di appassionati di attività ricreative citroen miami buggy concept rappresenta una visione gratuita di un veicolo progettato per vivere il tempo libero in modo innovativo esprime l'idea di un oggetto creato per l'avventura con uno stile estroverso colorato e muscoloso che cerca di mantenere un'alta semplicità e funzionalità i creatori di citroen hanno concepito questi ganci completamente ribelli pensando a coloro che cercano un veicolo con una forte personalità che è elettrico f